Stronzi adesso, hanno coperto Aldo Fabrizi, questo è il portone, ecco, deve venire, ecco, Aldo Fabrizi, ma si vede solo da qua, è là, è là, ah c'è la targa, hai capito, è nato proprio qui, questo è il portone di famiglia, tutto, però ecco il cantiere, magari è meglio di no, la prossima volta, pazienza.